Buongiorno e ben ritrovati alle interviste della Green Week, siamo a Parma, con noi c'è Tommaso Lapi di GLM, ma non solo. Tommaso ci racconti cosa fate all'interno del vostro gruppo, di cosa vi occupate, perché insomma fate cose molto diverse. Sì, grazie. GLM fa parte di un gruppo, Lapi Group, è un'azienda familiare che nasce sulla chimica conciaria, circa 70 anni fa. È un'azienda storica? Sì, abbastanza, nel settore conciario di Santa Croce sull'Arno, nel comprensorio del cuoio. Principale rappresentante di estratti vegetali per la concia, poi a valle di questo ha avviato una lavorazione che è rappresentata dalla Lapi Gelatine, gelatina alimentare farmaceutica. Nasce prossima al comprensorio del cuoio, nel comune di Empoli, proprio per sfruttare al massimo la vicinanza del comprensorio che è fornitrice principale del sottoprodotto, che diventa poi nobilitato in gelatina alimentare farmaceutica. A seguire avvia un'altra attività che è quella della conceria, una conceria di cuoio da suola, con una tipicità continua con la tradizione a produrre cuoio da suola con la concialenta in vasca. Insieme a queste attività poi si sono correlate servizi al settore conciario che vanno a coronare quello che è un servizio che diamo da anni al comprensorio. Gestita ancora dalla famiglia, io sono insieme al mio cugino la quarta generazione, siamo fieri di continuare questa tradizione e portarla avanti tutt'oggi come una famiglia. Molto bene. Ci dai anche una dimensione del business? Insomma, come avete chiuso come fatturato? Quali sono le previsioni per il 2023 come gruppo, come azienda? Come gruppo nel 2022 abbiamo sviluppato un fatturato all'incirca nei 180 milioni di euro. Abbiamo da poco acquisito anche una realtà in Spagna, sempre per la produzione di gelatina farmaceutica alimentare. Per il 2023 vediamo una leggera crescita, circa un 10%. crediamo nel mercato, crediamo nel lavoro che facciamo e benché siano stati anni duri di crisi, riteniamo che con innovazione e ricerca riusciamo a sviluppare tutti gli anni. Cosa significa per voi l'innovazione e la ricerca? Cosa avete fatto o che portate di nuovo? Ti parlo un attimo di GLM, proprio perché è il processo più tradizionale che abbiamo nel gruppo, perché come ti ho detto prima è concellenta in vasca, è un processo che dura oltre 60 giorni e fa un prodotto un po' particolare che è il cuoio da suola, quindi lavoriamo con i brand, ma siamo un po' nelle retrovie perché una scarpa la apprezziamo sempre dalla tomaia, mai dalla suola. In realtà ci siamo resi conto che nel momento in cui si riesce a declinare l'artigianalità e la tradizione si può portare un valore aggiunto enorme. Noi da circa 10 anni investiamo in innovazione, con la 4.0 siamo riusciti a automatizzare il nostro processo. È molto manuale, tiene conto molto della sapienza delle persone e delle maestranze, ma unire queste due competenze ci permette di superare i limiti sia dell'uomo che della macchina e questo lo riteniamo la chiave di volta del business. Naturalmente tutto ciò tiene di conto di una consapevolezza che un'azienda come la nostra nel comprensorio deve avere consapevolezza del luogo in cui vive e quindi non solo crescere ricchezza ma anche restituire qualcosa al territorio. Che sia nell'ambito più ristretto del comprensorio noi siamo molto sensibili alla crescita dei giovani, quindi facciamo molte attività sulle scuole, sia quelle di settore sia quelle primarie e secondarie. Dall'altra in senso più ampio quello che è la sostenibilità della nostra presenza sul territorio. Certo, l'integrazione con un territorio che tra l'altro insomma di conceria, insomma, io arrivo dal Veneto, c'è anche lì un po' della concia abbastanza importante, però è molto legato a questo territorio toscano che voi vivete e che io apprezzo particolarmente peraltro. Volevo chiederti un'altra cosa, questo festival parla di green, voi siete stati i primi o fra i primi a concepire questa certificazione di cuoio ecologico, ci racconti qualcosa in più di questo aspetto? Naturalmente quando riesci a standardizzare un processo artigianale ti rendi conto che gli sfridi che vai a produrre spesso sono per poca consapevolezza prodotti o poi anche riempiegati. Questo ci ha permesso di ottimizzare il nostro processo. Onestamente noi questo processo di innovazione del ciclo produttivo l'avevamo incominciato da anni, abbiamo sfruttato l'occasione di questa certificazione per renderci conto effettivamente a che livello eravamo, ma la consapevolezza di quello che andiamo a fare e come lo facciamo ci ha permesso anche di crescere anche negli ultimi anni a valle di questa certificazione che onestamente sposiamo a pieno perché non tiene di conto soltanto dell'impatto che diamo nella fase di produzione, ma tiene di conto anche di quanto il nostro prodotto non è di così veloce velocità nel ciclo vita, cioè spendiamo energie quotidianamente cercando di impattare meno mentre lo produciamo e allungare il ciclo vita del nostro prodotto, cioè dare una garanzia di qualità che sia anche estetica perché lavoriamo con i brand e dall'altra parte che abbia una durevolezza e una garanzia per chi lo va a proporre sul mercato per noi superiore alla media. Certo, ci sono stati degli step per raggiungere questa certificazione, cioè tu mi dicevi che hai iniziato un percorso un po' in là nel tempo. Sì, te l'ho detto, i primi step sono stati quasi spontanei. Sì, tra l'altro una cosa che ho vissuto anche in un'intervista precedente, come alcune cose siano quasi connaturate all'essenza stessa dell'azienda per cui me le sento dentro ed è quasi naturale poi il percorso in questo caso di una certificazione. Sì, sì, effettivamente sì. La certificazione, lo studio di questo certificato ci ha permesso di prendere consapevolezza di quali potevano essere gli obiettivi da raggiungere effettivamente e quindi andare a concentrarci dove eravamo meno performanti, dove eravamo meno performanti quindi sull'utilizzo delle risorse idriche o sull'utilizzo dei prodotti chimici tali da non compromettere mai la qualità del prodotto ma studiando al meglio quali fossero le soluzioni migliori per ottimizzare il nostro ciclo produttivo. Lo abbiamo un pochino nel DNA come famiglia perché la figlia di Guido Lapi che oggi è rappresentante di estratti vegetali ha sempre collaborato con i suoi fornitori, con i suoi produttori proprio perché il loro ciclo produttivo fosse completo. Lo stesso la conceria, ne abbiamo appena parlato e la lapigelatina nasce come materia prima da un sottoprodotto dell'industria alimentare perché utilizza le spaccature della conceria. Oppure la lapigelatina utilizza anche le pelli di pesce quindi un sottoprodotto dell'industria alimentare ittica. Questa natura dalla quale nasciamo di per sé ci porta a comprendere quello che il nostro ciclo, la nostra vita, cioè la nostra essenza in realtà deve stare attenta a come si propone sul territorio e sull'impatto generale. Certo. Ascolta, voi siete un gruppo, quindi è chiaro già questo link dove un prodotto di scarto che ci sarebbe stato e che sarebbe magari stato smaltito, rivenduto, eccetera, invece lo riutilizzate all'interno di un altro ciclo produttivo di un'azienda del gruppo. Quali e quante, magari se ce ne sono di altre, sinergie e ottimizzazioni vi siete portati a caso, comunque riuscite a sfruttare all'interno del gruppo proprio perché siete un gruppo e riuscite a fare queste... Allora, come gruppo in realtà grossi altri link non ci sono, le aziende di prodotti chimici sviluppano continuamente ricette, nuovi prodotti da sfridi di produzione altrui. Dall'altra parte come singole aziende siamo riusciti a ottimizzare, considera soltanto che nella coceria il 98% dei sottoprodotti vanno a riutilizzo, hanno una seconda vita. spesso una seconda vita industriale, a volte anche ulteriore. L'apigelatine è una di queste, cioè da un sottoprodotto della coceria ottiene gelatina alimentare e farmaceutica, ma anche essa dai suoi sottoprodotti in realtà al rifiuto ne va solo l'1%, quindi veramente sfridi di produzione. Quindi, forse non siamo gli specialisti del riutilizzo totale, ma abbiamo piena coscienza che quello che produciamo non può essere abbandonato, deve avere uno scopo o un fine e con questa mentalità siamo riusciti anche a occupare quello che noi non riuscivamo a riutilizzare. Certo. In questo periodo chiaramente c'è un tema anche di persone all'interno dei territori, c'è stata un po' la Great Resignation e quindi questo allontanamento di alcune persone da alcune aziende. Che cosa fate voi per essere attrattivi nei confronti delle persone nel vostro territorio, ma magari anche al di fuori dello stesso? Onestamente ci riteniamo fortunati, ci riteniamo fortunati per due motivi principali. Uno, abbiamo ben chiaro che siamo un'azienda familiare, quindi per noi la persona è al centro e cerchiamo di trasmetterlo in ogni momento. E molta anche magari concretezza. Piedi per terra, consapevolezza di chi siamo e di cosa facciamo e dove vogliamo andare. Però dall'altra parte è anche un'ambizione, perché insomma avete fatto delle acquisizioni, quindi c'è una crescita strutturale con i piedi ben impiantati, però si guarda anche a queste cose. Quindi un gruppo onestamente che riesce a radunare queste aziende riesce a dare un plus a ogni singola azienda proprio di una visione imprenditoriale, manageriale, che investe sulle proprie risorse, che dà una visione di più lungo raggio, cosa che magari una singola azienda non sarebbe stata in grado di dare così appieno e declinare anche una gestione consapevole in un modo manageriale rispetto ad un modo patronale. Cosa che onestamente siamo contenti di avere, perché ci viene riconosciuta, abbiamo collaboratori consapevoli di dove sono e di cosa fanno, perché lo fanno. Poi penso che ci sia anche un significato, un senso di appartenenza diverso. In passato il mondo delle concerie era sempre visto come qualcosa di un po' inquinante dell'utilizzo del prodotto anche chimico. In realtà questo concetto di cuoio in qualche maniera ecologico comunque questo impatto nuovo e diverso a livello ambientale penso che sia un buon messaggio anche in termini di senso proprio di appartenenza. Penso che molti giovani in questo momento qui stanno guardando a posti di lavoro dove si salva un po' di più il pianeta rispetto al passato. Certo. Il passo, la consapevolezza sicuramente l'ha fatta da padrone, ma il passo ulteriore che va fatto è quello della comunicazione. Il concetto di dire stiamo attenti a parlare di chi siamo, di cosa facciamo, perché quello che maneggiamo può essere interpretato male, è un concetto passato poco consapevole di chi sei e di dove vuoi andare. Noi aderiamo a fabbriche aperte di unioni industriali, collaboriamo con le scuole del settore. Quindi porte aperte, venite a vederci, perché in realtà non ci vergogniamo di chi siamo, siamo fieri di chi siamo, vi mostriamo chi siamo, ma proprio perché siamo consapevoli che sì, in passato la conceria è stata vista con un occhio un po' di traverso, dall'altra non è più così, ma onestamente non lo è mai stato, ma col tempo abbiamo acquisito maggiore consapevolezza di chi siamo e di cosa possiamo fare. Ascolta, tu fra poco sarai protagonista di uno dei panel, tra l'altro proprio su questi temi settoriali molto specifici. Cosa porterai nel panel? Cosa ti senti di portare come manager, imprenditore a chi verrà a ascoltarti? Ah, onestamente credo che quello che posso dare è quello che conosco bene, ovvero il nostro prodotto. Un prodotto di origine naturale, perché sono spogli animali, conciato con estratti vegetali, quindi noi abbiamo prodotto, ci affidiamo a produttori soltanto certificati FSC, quindi con un'attenzione al rispetto della... Quindi questo è da policy aziendale vostro? Sì, è da policy aziendale. Quindi è la consapevolezza che quello che andiamo a trattare, sì sicuramente deve avere un fine commerciale, perché le aziende stanno in piedi per quello, ma deve avere qualcosa in più oggi e quel qualcosa in più in realtà non va in conflitto con l'aspetto commerciale minimamente, anzi lo valorizza, lo rafforza e gli dà più sostanza, dà più stabilità a quello che è il progetto aziendale. Ringraziamo Tommaso Lappi di GLM e Lappi Group e ci vediamo ai prossimi appuntamenti, alle prossime interviste della Green Week.